Partiamo dalle decisioni del giudice sportivo. Campobasso multato di 1200 euro per tre bombe carta lanciate dal settore ospiti al Riviera delle Palme. Nessun giocatore squalificato ma da segnalare la diffida per Conti e Fusaro. Al prossimo cartellino giallo scatterà un turno di stop. L'attesa per la gara contro il Fano cresce nell'ambiente campobassano. La tredicesima giornata si presenta davvero interessante. Diverse le gare con circoletto rosso e di certo utili per la classifica dei lupi. In testa turno complicato per tutte, eccezione fatta per la maceratese che riceve all'Elvia Recina il Castelfidardo. Come detto lupi ospitano il Fano, San Benedettese in casa del Chieti, match complicato anche per la Civitanovese in casa della Jesina. Tra l'altro ricordiamo che la compagine di Civitanova Marche vince da ben sette giornate consecutive. In soldoni, turno questo che potrebbe delineare qualche piccola distanza o se non altro qualche battuta a vuoto delle battistrada. Fano dei Molisani, Borrelli e Civilla lanciato a meno uno dal Campobasso. Squadra particolare ancora alla ricerca della giusta continuità se consideriamo le quattro sconfitte in campionato. Ma il Fano ha pareggiato anche una sola volta. I numeri dicono quindi che il team marchigiano è una squadra che verrà sicuramente a Campobasso per portare a casa il bottino pieno. In trasferta il Fano ha vinto tre volte e perso altrettante un ruolino confortante per i lupi, che puntano decisi a confermare il colpaccio di San Benedetto con una nuova affermazione. Consueto giovedì di partitella per il Campobasso, si va verso una conferma della squadra scesa in campo domenica scorsa, con la conferma della difesa a quattro. Ai nostri microfoni sentiamo il centrocampista Claudio Pani. Questa vittoria che pesa tanto sia sul morale che sulla classifica del Campobasso, che ripercussioni può avere sulla stagione in generale del Campobasso? Sulla stagione in generale noi sappiamo che abbiamo una squadra normale, abbiamo una squadra fatta di uomini. Siamo lì, proviamo partita dopo partita, vediamo cosa succede. Non abbiamo quell'assillo come magari queste piazze di vincere, vincere, vincere. Siamo lì, siamo un gruppo, siamo una famiglia. Perché non provarci partita dopo partita? Decisivo il mercato di dicembre in questo senso? Non lo so, decisivo, perché qui abbiamo un gruppo forte, chi va in campo merita, chi va in panchina meriterebbe di giocare. Non lo so se con un mercato di dicembre puoi migliorare o che cosa. Questo lo deve decidere la società e il ministro, io non te lo posso dire.